Oggi che cosa facciamo? Saluta un po' a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Che cosa facciamo oggi? La poesia? Dell'aria. La poesia dell'aria. La maestra ha detto che bisognava imparare questa poesia e noi che cosa l'abbiamo fatta diventare anche? Una bellissima canzone? Una bellissima canzone. Sì. È diventata una bellissima canzone. Senti, ma prima diciamo che cos'è l'aria prima di fare questa canzone? Questa canzone? Eh, che cos'è l'aria? Che cosa abbiamo detto, che abbiamo studiato? Che l'aria è un elemento... Che l'aria è un elemento molto importante per? Per tutti gli esseri viventi. Sì? E chi sono gli esseri viventi? Tu lo sai? Quali sono gli esseri viventi? Quali sono gli esseri viventi? Le piante, gli animali e le persone. Bravissimo. E l'aria com'è? È pesante l'aria? No, è una cosa leggera. È una cosa molto leggera. Come dice la canzone, vero? Allora, la facciamo allora questa poesia? Sotto forma di canzone? Va bene, guarda. Allora, prima la facciamo parlata. Ok? Sei pronto? Vai. Allora, l'aria è una cosa leggera che ricopre tutta la terra. Parla bene, come copre la buccia, la pera, ma nessuno è la ferra. Che cosa significa afferra? Nessuno la può prendere l'aria? Prova a fare così. L'hai presa? Hai preso l'aria? Sì. Sei sicuro? E dov'è? Fammela vedere. Non si può prendere l'aria. La prendiamo l'aria? No. La prendi? No. No. Prendi un po' l'aria. Come fai? Eh, non si può. Nessuno come... Ops, l'è caduto tutto qua. Quindi nessuno la beve e la ferra. Nessuno la beve e la ferra. Poi? E' una specie di fumo lucente. Ok. Poi? E' una specie di fumo lucente. E anche se non la si vede... La si vede con gli occhi. Con gli occhi. Poi tirati su, siediti bene, dai che si parli meglio. Poi? La respira. La respira. Con... Con che cosa si respira? Con gli occhi? Respira col naso. Ah, ecco. Con il naso... Chi è che respira? La gente? La gente. La gente. E anche... E anche tu. Col naso la tocchi. E anche tu col naso la tocchi. Bravissimo. Dai, facciamo allora la canzone. Allora. Sei pronto? Sì. Pronti? Partenza? E... Via. Allora. L'aria è una cosa leggera che ricopre tutta la terra. La terra. Come copre la buccia la pera, ma nessuno la vede la ferra. E' una specie di fumo lucente. E anche se non la si vede con gli occhi.